Lunedì 24 luglio 2017 riparte la nuova stagione del Trestina in serie D. Il primo gol ufficiale della stagione 2017-2018 del Trestina porta la firma di Leonardo Bambini. Speriamo che sia di buon auspicio. L'anno scorso quello di Valerio fu di buon auspicio, giusto? L'anno scorso non avevo fatto gol, avevo fatto il cucchiaio, è venuto male. Però quest'anno eravate d'accordo, diciamo la verità. Ho lasciato la porta bella ampia, ho detto in qualche modo, di fatto è entrata. Anche perché Valerio Galizzi è un portiere di esperienza e non avrebbe mai subito gol agli 11 metri da Leonardo Bambini. Questo sarebbe, guarda, sarebbe stato un'onta inferiore, adesso per la causa va fatta così. Quindi diciamo Bambini, Galizzi, presidente, vicepresidente, coppia d'attacco un po' come Ridolfi, Laceb. Lui è più Laceb, io sono più Ridolfi, più Destazza, quindi speriamo bene se è una coppia assortita. Allora, pensiamo bene, pensiamo che Laceb è una bella scommessa che l'ho visto molto motivato. Speriamo che sia una delle scommesse che vinceremo, come l'anno scorso è successo con altri ragazzi. Valerio Galizzi, estro e fantasia, che fissa l'obiettivo del Trestina? Che è? Che vogliamo dire, per essere proprio propositivi, diciamo una salvezza tranquilla come era l'anno scorso, ma è scontato. La squadra formata sa di buono quest'anno, poi magari come tutti gli anni ci saranno delle sorprese da arranciare e da definire, però diciamo che abbiamo un mister che sicuramente c'è una garanzia, dei ragazzi che ti dico, sembra aver fatto un buon lavoro di preparazione. Vediamo nel tempo come succederà. Una stagione che inizia nel segno del grande fratello, perché Marco Brachi ha convocato i suoi ragazzi alle 8 di mattina, poi due ore di confessionale qui dentro. Diamo l'esito del televoto dopo il primo confessionale della stagione, Marco Brachi, chi ha eliminato? Niente eliminazione, dai. Tutti i primosi, i ragazzi veramente in gamba, ho trovato collaborazione e veramente tanta motivazione. Primo allenamento direi molto bellino. Sei tornato in Umbra, ti abbiamo visto bene, correre lungo la fascia, un accenno di doppio passo, il piede c'è sempre. Sì dai, ancora qualche cosina, ma ci è rimasto poco. Ora c'è tanta voglia di mettersi lì sulla panchina, di ritornare a guidare la squadra. Abbiamo fatto un gran lavoro con la società e con Enrico. Se so che Leo non vuole, però ho detto ora mancherebbe veramente la ciliegina sulla torta. Il decimo vecchio che è una discussione amichevolmente con la società. Siccome non voglio sbagliare, allora io chiedo. Poi sarà Leo e Valerio se avranno voglia di darmi la ciliegina, se no si parte e poi vedremo. Gli diamo anche un nome a questa ciliegina? Ma no, non è tanto il nome. C'è Gallozzi in prova. Sì, c'è Gallozzi in prova, c'è Marco in prova, che sia lui, che sia un... Credo che questa squadra per diventare veramente una squadra importante abbia bisogno di qualcosa davanti. Leo e Valerio giustamente mi dicono, mister, prima vediamo quello che abbiamo in casa. Ed hanno ragione, io gli do proprio pienamente ragione. Per vincere il suo grande fratello il Trestina deve salvarsi o farà anche un pensierino ai play-off? Secondo Marco Brachi? Secondo Marco Brachi, di sicuro, la prima cosa che ho detto stamattina ai ragazzi, fare 240-250 km al giorno da Ponta al Sieve fino al giovedì, che poi il venerdì chiaramente mi fermo. Però faccio under di under tutti i giorni e venire per fare un campionatino non lo faccio sicuramente. Oggi, come ho detto ai tuoi colleghi, non firmerei per una salvezza e basta. Chiaramente vorrei fare molto ma molto di più, poi che sarà questo molto ma molto di più sarà la 34esima giornata di un altro anno, a dirlo. Che sia il primo giorno di scuola lo si capisce dallo zaino del direttore sportivo Enrico Cerbella. Ha punti per una campagna acquistica che ancora non è chiusa? Non è chiusa perché è giusto stare attenti su quelle cose che possono magari presentarsi e possono essere interessanti. Noi abbiamo allestito una rossa adeguata che già permette al mister di poter lavorare e soprattutto di poter provare quelle idee che sicuramente lui vorrà provare. Poi dopo stiamo attenti a qualunque cosa si possa presentare e vedere se riusciamo a migliorarla ancora di più. Con il sindaco Luciano Bacchetta e l'assessore Massimo Massetti, calcisticamente parlando, verrebbe da dire città di Castello schiera la miglior formazione in casa Trestina. Sì, abbiamo fatto i complimenti alla società del Trestina ovviamente per l'ottimo campionato dell'anno scorso, per questo inizio di stagione che speriamo vada nel senso migliore. D'altra parte questa è una società di grandissimo livello, molto organizzata, di grande qualità e prima ancora che i risultati sportivi vanno sottolineati le grandi doti organizzative e manageriali. Perché di fatto Trestina oramai è stabilmente in serie di da molti anni in maniera anche assolutamente dignitosa e questo è un vero miracolo che molte volte ci si dimentica e si sottovalca. E' un miracolo vero che l'amministrazione comunale sottolinea con grande forza perché se oggi siamo qui a iniziare una stagione agonistica di una squadra in serie D lo dobbiamo alla dirigenza del Trestina, del nostro comune. Questo direi che va sottolineato in maniera molto forte perché non è assolutamente un dato banale. Un assist per Massimo Massetti. Sì, siamo nel primo giorno del raduno come ogni anno con il Trestina che raduna i propri ragazzi per iniziare la preparazione. Siamo qui presenti perché è giusto che l'amministrazione lo sia, come ha detto il sindaco è la squadra che in questo momento rappresenta la città. Il Trestina riparte comodo, convocazione alle ore 8.30 di mattina, sono le 1.30, sono 5 ore dunque che Matteo Morvidoni e Mattia Ridolfi sono seduti qui a Tavolino. Del resto, insomma, Matteo Morvidoni ne ha bisogno, sei riuscito a diventare il più vecchio. Eh sì, era tanti anni che ci puntavo ma quest'anno ci sono riuscito, a parte le battute, anzi è un grosso dispiacere essere il più vecchio anche perché sono così tanti ragazzi. In più perché abbiamo perso la nostra bandiera che era, insomma, Alessio che oltre a essere un grande amico è una grande perda a livello tecnico e quindi, ripeto, avrei preferito essere il secondo più vecchio sicuramente. È arrivato Samir Laceb, a Trestina dicono tutti per i gol, continuerà comunque a pensarci Mattia Ridolfi. Beh, sicuramente sarà un'annata nuova, come ogni attaccante spero di superare, insomma, l'anno passato nel migliore dei modi e di migliorarmi. Siamo ripartiti oggi, quindi c'è tutto il tempo, insomma, per prepararsi bene a questo inizio di stagione. Senti, prime parole, cosa hai chiesto a Laceb come compagno di squadra? Guarda, io sono qui già da un anno, un po' di nonnismo. No, abbiamo parlato poco, abbiamo solo corso ma già redarguito, insomma, sui tempi di corso che erano abbastanza veloci. Mi ha detto di rallentare un attimo, quindi abbiamo solo scherzato su quello e basta per adesso. Il prossimo capitano del Trestina chi sarà? Ma, non lo sappiamo, però, insomma, tutto ci porta a pensare che possa essere Vinagli il capitano del Trestina. Sta facendo il timido, Matteo Morvidoni sta suonando casa per casa qui a Trestina, sta facendo un sondaggio. Allora, lancia un appello tu, Mattia, Matteo Morvidoni, prossimo capitano del Trestina, vai. No, allora, Matteo Morvidoni sarà lui il nuovo capitano del Trestina, ovviamente, perché esperienza, età, mettiamola. Un certo fascino, no? Fascino anche, vedi, la barba comunque già lo fa capire, insomma, gli è nata anche una bambina e quindi ancora di più può fare, diciamo, il capitano per questa squadra quest'anno, insomma, secondo me. Sarò il papà di tutti, lo slogan. Bellissimo! Lo sarò comunque anche se non porterò la fascia, diciamo così. Bellissimo! 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 Bellissimo!